È ormai ufficiale, non c'è la provaccia, oggi è stato deciso che a causa del maltempo, soprattutto del forte vento, non potete giocare. Come l'hai presa, come l'avete presa nel travaglio? Diciamo che egoisticamente ogni quartiere, ogni settore arco la pensa allo stesso modo, cioè noi la provaccia la volevamo fare. È normale che poi ci sono interessi maggiori rispetto a una semplice provaccia e quindi poi alla fine una decisione va presa entro un certo tempo e dobbiamo rimetterci a quello che è stato deciso. Anche se noi in campo ci vogliamo sempre essere, soprattutto perché la provaccia è il test migliore per provare i nostri arcieri che si allenano per mesi e mesi. Con quale sentimento domani entrerete in campo? I sentimenti non cambiano, la passione è sempre la stessa, la voglia è sempre la stessa, la determinazione è sempre la stessa. Indipendentemente dal tempo, dal meteo, per noi le aspettative sono sempre le stesse, cioè quelle di fare una gran bella gara. Quindi domani anche se dovesse piovere voi volete giocare? Noi vogliamo sempre giocare. È chiaro che come ho detto prima ci sono altri tipi di interessi oltre al nostro e ci rimettiamo poi a quelle che saranno le decisioni, ma noi in campo ci vogliamo sempre essere. Purtroppo contro gli eventi atmosferici non ci si può fare nulla, però chiaramente bisogna rispettare la decisione della commissione, il sindaco, il capitano di campo, il rappresentante del magistrato. Si è presa un po' così perché purtroppo il mio quartiere sta penalizzato fortemente, siamo stati estratti in prima corsia e da che mondo è il mondo, quando si va a scegliere le corsie dopo la provaccia, nessuno sceglierà prima per primo, sceglie sempre quello che arriva ultimo, che vuol dire che la corsia meno ambita è quella dove c'è il pubblico più vicino e quindi poi noi abbiamo un arciere attirato una volta sola, mia nipote Mario, quindi insomma speravo di poter tirare, speravo proprio come succede spesso a Montalcino, un cambio di tempo e che si aprisse il cielo e ci avesse permesso di tirare. Se domani dovesse esserci mal tempo, volete giocare lo stesso o rimandare alla prossima settimana? Questa non è una decisione che aspetta a noi, ma aspetta sempre la stessa commissione, quindi sai l'opinione, certamente sarebbe auspicabile, uno vorrebbe che ci fosse la stessa misura, lo stesso peso per decidere nel senso che no, che magari domani piove una bella giornata di pioggia e domani si tira perché il domani si tira. Non mi sembrerebbe giusto perché sono stato penalizzato con la provaccia, a quel punto se non è da tirare non si tira neanche la gara e si rinvia la prossima settimana, ma questo non lo decido io, ma si aspetta sempre a loro. Io spero ci sia un bilanciamento sulla decisione, insomma un'equità, ecco tutto qua. Ormai è ufficiale, in queste ore dovevate essere in campo e invece siamo in piazza, la provaccia non si terrà. Come ha preso il Borghetto questa decisione? Il Borghetto l'ha presa male, ci siamo rimasti male sia io, sia noi ragazzi del gruppo Arco che quelli che il quartiere come dirigenza. Obiettivamente stamani quando c'è stato l'incontro con i capitani degli arcieri e i responsabili della festa, le posizioni erano diverse, sembrava che tutti si volesse arrivare a tirare la provaccia perché obiettivamente questo è un torneo che si svolge in due giornate e in una giornata sola viene un po' falsato. A quanto mi hanno riferito, a quanto mi hanno riferito il mio governatore, l'unico quartiere che si è impuntato per fare la provaccia durante la riunione che c'è stata prima della provaccia per decidere se fare il corteo e la gara siamo stati noi, mentre gli altri quartieri insieme alla direzione della festa hanno deciso di evitare di fare la provaccia. Quindi con quale sentimento domani scenderete in campo? Il sentimento è lo stesso, nel senso che noi scendiamo in campo sempre per vincere e quello è obiettivo perché obiettivamente ci facciamo sei mesi di allenamenti e quindi quando scendiamo in campo vogliamo essere al top e quindi il nostro obiettivo rimane sempre la vittoria. Laddove domani fosse una giornata tipo quella di oggi caratterizzata dal maltempo, il Borghetto vuole tirare comunque? A questo punto la mia posizione cambia drasticamente rispetto a quella che avevo oggi. Al momento in cui oggi non si è tirato per queste condizioni, per me non si dovrebbe nemmeno tirare domani. Naturalmente ci sarà una votazione, quindi è una cosa democratica. Se rimaniamo come oggi in minoranza dovremo andare in campo e tirare e comunque sia noi ce la metteremo tutta per vincere. Come il Pianello ha preso questa decisione? Purtroppo non è una decisione presa da noi, volentieri. Cioè la provaccia si poteva fare con altri metodi e altri criteri. È stato deciso così, c'è una commissione di tre persone che decidono di farla. Quando penso io i capitani dovrebbero essere loro a prendere la decisione se farla o meno, in un certo modo è come farla. Però non si accetta purtroppo il risponso. Domani con quale spirito è entrata in campo? Vittorioso, sempre. Per me sì, sempre vittorioso. Laddove domani ci fosse brutto tempo il Pianello vuole scendere in campo e tirare oppure no? Quello sicuramente, perché per me va passa la prova, la gara deve rimanere. Se è possibile tiriamo.